sì lo so lo so se stanco anch'io sono stanca è già tardi hai ragione adesso andiamo però vedi che non ho ancora finito guarda quanto lavoro ancora da fare lo so sono alle prese con dei cambiamenti allora come sapete la tecnologia cambia la tecnologia avanza la tecnologia che c'era una volta magari ha fatto anche il suo corso nel senso che poverino non ce la fa più è così deve essere cambiata una di queste il mixer che voi insomma il martedì mattina vedete sempre mentre io sono in diretta e che chiacchierò anche con voi ebbene quel mixer veramente ha fatto la sua annata del senso che ormai tanti anni che che ci seguiva abbiamo deciso di cambiarlo è certo che vi devo dire la verità siamo stati un po indecisi su quale prendere anche perché ormai tutto gira sul digitale e quindi anche i mixer ormai sono digitali vero è che però noi ci siamo detti ok è vero che il digitale boni imposti e finisce lì però è comodo per chi anche come radio magari ha un regista fisso e che quindi è lui a gestire diciamo così il mixer e a mandare in onda chi trasmette o la musica noi invece nella nostra realtà ognuno di noi impara a farsi da regia poi se c'è per caso un regista che passa di lì ben venga ognuno di noi in grado di farsi regia e quindi sicuramente usano ancora l'analogico è il modo più facile forse per essere autonomi durante una diretta belli ma anche qui esteticamente poi vabbè fargliamo insomma dipende il grigino mi piace un grigio azzurino mi piace quindi andava bene anche se in realtà diciamo che i colori nostri sono rossi bianchi neri quindi potevo cercare qualcosa di più appariscente un rosso nero ma mi hanno detto simona non esageriamo con calma va bene allora abbiamo scelto questo qua grigino blu cosa c'è che però è particolare beh intanto che non abbiamo che cosa abbiamo ve lo spiego un attimino allora intanto qui abbiamo come sempre i canali stereo ok dove noi ci mettiamo un ausilio questo canale può servire per un ausiliario poi ci attacchiamo un pc ci attacchiamo un cd ci attacchiamo un piano l'altro avanza non avanza nel senso che abbiamo due piatti due cd insomma quindi qualcosa ci possiamo attaccare mentre da questo lato abbiamo la parte mono quindi stereo mono perché qui di qui ci attacchiamo in realtà i due microfoni quelli che si usano per praticamente chi sta davanti al mixer e quindi parla di fianco abbiamo un canale per un altro microfono che va a gestire quello che è sul tavolo davanti al mixer ed è il microfono per gli ospiti poi abbiamo ancora due cursori vedete due cursori che cosa mi servono questi qua sono mi servono mi servono per il telefono ok perché noi attualmente per mandare in onda le telefonate usiamo un traslatore telefonico ma inizia al nuovi comunque come in questo caso questo qui ha praticamente librido integrato quindi manda in onda direttamente queste due linee telefoniche una e una due senza avere più altri aggeggi particolari tira su tira giù switcha fa tutto qua tutto nell'exer che cosa però che perché mi dite ma perché sei lì e sono qui perché cioè non è che prendo cioè tolgo l'altro prendo questo lo metto al posto guardando che ci sia la dimensione bon attacco i cavi dietro è fatto no vedete come come vedete non ci sono più le classiche entrate uscite con rca jack o cannon ma abbiamo dovuto fare queste fruste qua particolari ok con tutto quanto per poterlo far funzionare quindi adesso praticamente che facciamo continuiamo ad assemblare tutto quanto sicuramente non sarà pronta ancora per la nostra prossima diretta ma prossimamente lo vedrete in funzione a proposito di diretta qui chiudo e vado anche a salutarvi la la switchiamo la spostiamo a mercoledì mattina sempre alle 9.30 ok quindi vi do appuntamento questa settimana non a domani mattina bensì a mercoledì mattina alle 9.30 solo questa settimana credo forse no scherzo solo questa settimana spero di vedervi in tanti vi auguro una buona serata faccio ancora due fruste e poi niente me ne vado va bene ci vediamo mercoledì quale sarà il tema di mercoledì allora visto che io manualmente sto lavorando chiedo a voi e mercoledì parleremo di questo qual è un lavoro fai da te che avete fatto se siete riusciti a portarlo a termine oppure no intanto io vi ricordo e ritorniamo indietro al mio copricondizionatore del mare che al momento funziona e si preme la ora degli ottimi aperitivi adesso penso che se ho fatto qualche altro lavoro fai da te, oltre al mixer logicamente mercoledì ve lo dico intanto aspetto le vostre risposte a mercoledì alle 9.30, ciao! Meno male che però io parlo, 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 parlo perché se facessi il tecnico non andremmo molto lontano ciao mercoledì vi aspetto 9.30 baci, ricordatevi di raccontarmi il vostro lavoro fai da te se ci siete riusciti a portarlo a termine oppure no ciao!